Ciao da Jacopo, ciao Pier, come tutti sappiamo, Jacopo magari tutti lo sapessimo, nella quarta dimensione anche la materia ha una consistenza diversa. In conseguenza di ciò, una volta che la Terra sarà in quarta dimensione, come verrà adattato il fisico delle persone prelevate con un corpo di terza dimensione e come sarà il loro adattamento dal punto di vista sociale e psicologico? Sono cose che noi facciamo quotidianamente, è semplicemente una trasformazione della densità dell'energia. Non esiste la materia, tutto è atomo, tutto è onda, tutto è energia. Einstein l'ha dimostrato abbastanza bene, talmente bene che ci abbiamo fatto le bombe nucleari. Quindi è un cambiamento di stato, noi conosciamo il ghiaccio, conosciamo l'aria, scusa, l'acqua, e conosciamo il vapore, sempre H2OE. Quando è ghiaccio è a un basso tenore di energia, quando è acqua liquida è a un tenore di energia più elevata, quindi l'espressione fisica muta, però è sempre acqua. Quando è vapore è a un tenore di energia ancora più elevato, sempre H2OE. Quindi le trasformazioni sono sempre in armonia con la frequenza dello spirito, perché ciò che dà alla materia il suo aspetto esteriore è lo spirito. Quindi se lo spirito è la causa della manifestazione della materia, in qualsiasi dimensione lo spirito è sempre a suo agio. Anzi, più è bassa la dimensione, più lo spirito è a disagio. Più la dimensione si avvicina alla sua natura, quindi perde densità energetica, più lo spirito è a suo agio. Questo lo evinciamo con grandissima chiarezza da tutte le esperienze di premorte, di quelli che sono tornati indietro. Non volevano tornare indietro, perché la dimensione verso la quale stavano andando è più energetica, più alto livello di energia, quindi più simile alla natura vera dello spirito e quindi più adatta alla manifestazione dello spirito. Quindi questa domanda Jacopo scatturisce sempre dal grande inganno dell'incarnazione. Quindi è inutile che noi adesso ci mettiamo a elucubrare come la quarta dimensione, perché in questo momento, a causa della nostra condizione evolutiva e quindi della nostra energia come entità spirituale, noi non possiamo concepire la quarta dimensione. Quindi qualsiasi cosa noi diciamo sarebbe solo un pallido, una pallida metafora di qualcosa che è inconoscibile. Io ho avuto modo di vedere la materia della quarta dimensione, non la puoi spiegare, è impossibile, perché è una materia che ti parla dentro, tu la guardi e la vedi fuori, ma ce l'hai anche dentro. Come fai a spiegare una cosa così? È impossibile. Quindi come faccio a spiegartela? Ma se comprendiamo il concetto, ci entriamo dentro. Siamo sempre noi che siamo dentro o circondati da una struttura che esprime nella sensorialità tangibile il nostro livello di evoluzione. Quindi in questo momento diciamo l'uomo che si trova più o meno in equilibrio con la dimensione attuale vibra circa 35.000 cicli al secondo. Quando supereremo i 40.000 andremo nella quarta dimensione. Quindi non dipende dalla materia, dipende dallo spirito. Sempre lì torniamo che noi purtroppo per manipolazione satanica, ragioniamo sempre al contrario, sostituiamo sempre l'effetto con la causa e ci inganniamo e finiamo in meandri di ragionamenti, di quesiti, di domande che sono sbagliate. È come essere in un viaggio e chiedere, fermarsi a chiedere a un passante senta, secondo lei sto andando abbastanza lento per arrivare prima? Sempre le cose al contrario. La causa è lo spirito. Noi siamo lo spirito, il corpo è solo un appendice di cui dobbiamo disperatamente liberarci nel più breve tempo possibile perché è una bara invecchia, si amala, si rompe. Macello. Una macchina che si logora con grandissima facilità, che ci ruba un sacco di tempo, vuole mangiare, vuole dormire, vuole fare la cacca, la pipì e poi vuole accoppiarsi e poi non gli va più bene, poi si vuole ubriacare, poi si vuole drogare. Mica è lo spirito quello, quello è il corpo che ci chiede quelle cose lì. Quindi è una macchina infernale se viene usata male che ci porta a sofferenze terribili. Quindi questa macchina bisogna imparare a governarla in modo da abbandonarla prima possibile e prendere una macchina migliore, abbandonare sta carriola inefficiente e prendercene un'altra che corra molto di più, che non invecchi, che sia più efficiente. Io non vedo l'ora di scappare da questa dimensione perché è asfissiante. Aspettaci un po', Pier Giorgio. E qui sono, Marco. Allora... Allora...